Sì, diciamo che sì, sono parecchi anni che ho fatto una mano qui all'altro loco e poi c'è lo stendo delle sfogliate, dei canoni. Come la comienza con questo stendo? Diciamo che avendo cominciato da poco tempo è buona. Rispetto agli altri anni? Rispetto agli altri anni, diciamo che comunque si mantiene sempre costante un tempo, sì. Degusterà qualche altra cosa? Sicuramente, sono tutte delizie, quindi andrò a provare vari piatti, vari pitanze. Qual è il prodotto tipico che qui la attira? Nel Santo Stefano abbiamo diversi prodotti e comunque ci piaceva sempre quella che è la dieta mediterranea, quindi ci sono diversi prodotti da poter gustare dai formaggi ai salumi, ma anche nei dolci riusciamo ad essere bravi. Sì, quindi è abbastanza soddisfatti anche dell'attruente. Sì, sì, soddisfatti. E degli artisti di strada cosa puoi dirci? Degli artisti di strada, beh, quest'anno ho visto molta presenza, perché dipende anche dagli anni, dalla possibilità che abbiamo, diciamo, di ospitare questi artisti. Quindi penso che quest'anno c'è un buon mix tra degustazioni, piatti tipici e divertimento. Sia per l'anno che è un'ottima questione, molto sorprende. Grazie. Grazie. Grazie.